Comunque, guarda, adesso parlando fra me e te che non ci ascolta nessuno. Mi senti? Qua le cose non si spiegano. O sono io che sono nata disgraziata, o sennò qua non si spiega veramente. Vedo le storie, i video delle altre persone, delle altre ragazze con la relazione che hanno. I fidanzati le portano alle terme, a cena fuori, al cinema, a pattinare, a fare le vacanze. La bella vita. E a me, dove mi hanno portato tutti i miei ex, i bungoli, i porcelli, le stelle. No, che sono i bungoli? No, vabbè, comunque, per farti capire. Ma possibile, dico io, uno, sano. Comunque, non l'ho trovato. Tutte fortunate sono, e io? No. Veramente, non posso dire di avere bei ricordi di nessuna relazione che ho avuto, manco di quella che c'è adesso. Di nessuno! Non posso dire di avere bei ricordi, dove mi hanno portato in un bel posto, dove mi hanno fatto delle belle sorprese, dove mi hanno fatto una serenata, dove mi hanno... Niente! Solo tossicità! Solo robe tossiche! Queste, io so, delle mie ex relazioni. Questa. I bei ricordi. No, tu ridi. C'è un cazzo da ridere. C'è un cazzo da ridere! Ah, bella mia! Sono le altre che hanno tutte queste fortune di trovare questi ragazzi con questi. Sono le altre. Forse è l'unica, l'unica avventura che ho fatto in tutte le mie relazioni, quando mi hanno portato, il mio ex mi ha portato al mare, ad Albisola e Liguria. Due giorni, dove lui si era pure collassato e te l'ho rimasto pure fuori di casa. Ecco quali sono le mie avventure. No, guarda, no, no. C'è un cazzo da ridere. C'è un cazzo da ridere.